Più di 250 milioni di euro di squilibrio contabile e qualità recopertura entro il 15 luglio prossimo sono i conti della Sanità Pugliese 2021, perdite ripianate in maniera omogenea su tutte le aziende sanitarie e sulle quali pesa tanto la spesa farmaceutica quanto il combinato disposto di mobilità passiva e decremento demografico. Il quadro è quello emerso dai lavori della Commissione Regionale Bilancio a fronte di un fondo sanitario regionale Pari a 7 miliardi e 655 milioni nel 2021, la Puglia ha speso per 8 miliardi e 155 milioni di euro con uno squilibrio segnalato che di milioni ne vale 500, una parte, 66 milioni nello specifico, è stata ripianata con il cosiddetto payback cioè il contributo che le aziende farmaceutiche versano regolarmente alle regioni un'altra, per altri 188 milioni, arriva dal contributo integrativo Covid da cui la necessità, fa i conti con il pallottoliere e il presidente Fabiano Amati di coprire dal bilancio autonomo una spesa aggiuntiva di circa 250 milioni e di farlo soprattutto entro l'estate, salvo che il Governo nazionale si intende non adotti un provvedimento di sostegno. Grazie a tutti.